Salve, mi chiamo Caterina Boccardi, attrice e scrittrice romana. La passione per la scrittura e la recitazione l'ho avuta sin da piccola. Mi mettevo sul balcone con uno scopettone e inventavo le mie storie, sperando che da lì a poco si formasse una folla. In realtà l'unico affanno era mio padre, che era lì, mi applaudiva, e poi veniva su casa e si complimentava con me. E così anche con la scrittura. Ho iniziato col Diario dei Segreti per passare poi alle lettere. Mi spedivo le lettere da sola, me le scrivevo in terza persona, con tanto di franco bollo. Non ho mai smesso di recitare e di scrivere. Sono due passioni che insieme al nuoto, sono un hexagonista di nuoto e nuoto sincronizzato, non ho mai abbandonato. Per cui quando non recito scrivo, e quando non scrivo nuoto. Conosco bene l'inglese e il francese, ho fatto il liceo linguistico, poi ho studiato comunque le lingue privatamente. Le mie abilità quindi sono il nuoto, il ballo, e volete vedere i miei profili? Allora, questo è uno, l'altro, e vi faccio vedere anche le mie mani, eccoli qua. Sono rappresentata dall'Agenzia La Cantera Management. Grazie.